La Sop vai in onda da lunedì al sabato alle 13,40 su Canale 5. Beautiful, lunedì 25 maggio 2020, anticipazioni trame. Liam prega Hope di non lasciarsi influenzare da Thomas, che sta usando suo figlio Douglas solo per arrivare a lei. Beautiful, martedì 26 maggio 2020, anticipazioni trame. Bill è determinato a riprendersi Katie, e lei ordisce un piano diabolico per mettere alla prova le sue vere intenzioni. Beautiful, mercoledì 27 maggio 2020, anticipazioni trame. Bill comunica a Justin la sua frustrazione, lui vorrebbe risposare Katie, ma lei ha rifiutato la sua proposta di matrimonio. Beautiful, giovedì 28 maggio 2020, anticipazioni trame. Shawna cerca di sedurre a Bill per mettere alla prova i suoi sentimenti per Katie, mentre quest'ultima assiste alla scena di nascosto. Beautiful, venerdì 29 maggio 2020, anticipazioni trame. Shawna, come concordato con Katie, tente in tutti i modi di sedurre Bill, ma l'uomo è fermamente deciso a non cedere. Beautiful, sabato 30 maggio 2020, anticipazioni trame. Shawna riferisce alle altre Logan e a Justin che Bill ha respinto le sue avances. Katie racconta a Bill come l'abbia messo alla prova con Shawna.